e poi prendo questo che non so cosa sia e mi metto ready anzi no cambio prima colore cambio colore e mi faccio mi faccio effetto neve che non serve a niente in città prego mi faccio giallissimo giallissimo tanto per non essere visto dai nemici esatto una roba sobria che va bene anche con l'autunno inverno guarda che bellino che sono guarda va devo provare le armi ho preso un lanciagranate a 3 madonna che bestia mi fate incazzare con disco anche la disco guarda che c'ho lo scudo di energia io no che figo con cosa l'hai attivato? col tasto destro oddio l'ho fatto io quello eh? l'hai fatto tu? mi sa di si eh? non lo so ah ecco ah ecco la torretta spettacolo come si fa la torretta? no con il tasto destro hai altre cose si c'ho lo scudo io vai torretta vola torretta bianca vola se non mi fai fuori è meglio forse non ci possiamo colpire noi sai? ah no aspetta proviamo dove sei? sto qua sto qua aspetta lasciamene uno grazie ah piantiamo gli esplosivi proprio corri 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 la città è sta ma io voglio sapere un po' di storia no non è vero non ce ne può fregare di niente c'è stata un'invasione e sono morti tutti perfetto ah dobbiamo stare qua allora aspetta che metto la torretta no non ce l'ho più nooo una ne avevi in tutto sono le aspetta è qua è qua qua bisogna stare posso riprenderla? non posso riprenderla ho preso la torretta si può usare guardali guardali che arrivano si può usare posso usare la torretta fissa guarda ma sei tu quello? sono io troppo bello no non mi fai nuovo esplode tutto no si è sovraccaricata si è troppo lento sa fare per appeggiare è vero? è quello sei tu praticamente la torretta devi stare fermo a sparare i nemici insomma posso anche elettrificare lo scudo guarda uno mi ha scritto Yotobi sei un mito bellissimo va bene salutiamo il mito guarda qui con lo scudo elettrificato ho perso l'energia wow siamo ritornati a legoland tra l'altro guarda wow 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 si va via? no si sta qui adesso cambiamo canzone attenzione wow wow no sempre io ero quello aiuto 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 dove sei? arrivo arrivo ci mette tre ore ma ci arrivo perché sono caduto giù no qua mi fanno fuori aiuto dove sei dove sei? oddio maledetti metto la torretta qua ti è proprio in mezzo a loro no questo era un altro aspetta ah tu sei qua torniamo su torniamo su torniamo su ma no ero io scusami no è spettacolo quell'arma lì ma comunque non mi fai niente è arrivata la sonare sono di serpente anche aggiungere come vola questo uomo ubriachissimo ma quella è kicker wow cosa ha lasciato? super torretta? così a caso ci sono le persone che corrono ah esiste qualcun ah oddio ho fatto il moda sto facendo crollare il mondo oddio chi è? eccolo attenzione attenzione sta distruggendo la torretta guarda che roba guarda che roba guarda che roba guarda che roba non vedo più niente dalle esplosioni che ci sono guarda lo stiamo demolendo è morto già subito eh vabbè non ce n'è non ce n'è non ce n'è attenzione è pieno mettiamo la torretta a caso guardalo ma sai che il mio... man mano che gioca questo gioco il mio cervello muore pian piano esatto ogni giorno un neurone muore c'era un altro c'era un altro ah questi si attaccano questi si attaccano le pulce hai capito? ah ci sono nuovi nemici aiuto 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 ci sono le pulce io sono dall'altra parte ah 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 finita finita si attaccano le zecche sono zecche hai capito? si 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 attaccano e esplodono cosa fanno? sono morto sei morto waiting for survival ah dove? ho tirato sto il tipo grazie no non morire non morire ti prego aiuto ah il mio schermo è invaso dagli scarafaggi no qua dovrò andare in analisi dopo aver giocato sto gioco che schifo ma la bastardo maro ai 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 crepaci bella bella guarda quanti sono 11 12 e crepaci ma infatti mi sembrava troppo facile il primo livello ho detto minchia no chi cazzo è stato? aiuto aiuto non sparatemi non sparatemi veniamo in pace qua eh proprio pensa se il 2012 è così insetti giganti ti immagini io mi faccio io mi spezzo il collo da solo se sono insetti giganti non me ne frega niente no no mi butto giù dalla finestra che soddisfazione ah si andiamo a spezzare in quello prima qualcuno esatto andiamo allora facciamo lettera a chi c'è esatto abbiamo la lista nera guarda questo guarda ma l'ho rivalutato tantissimo sto gioco muto nel new rally point va bene questa è solo la prima parte questo l'ho rivalutato tantissimo con shift puoi correre? eh sto già correndo guarda senza che corre così guarda guardami ma tu sei è una versione un po' farlocca e barbonesca da quattro soldi di Halo insomma esatto la tua armatura master mastercard io direttamente però se vedi la città così non è neanche male ah 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 aiuto oddio c'era noi avevamo mezzo mondo alle spalle e non lo sapevamo c'erano le formiche ninja quattro formiche ninja alla riscosta e quattro formiche ninja le ants oddio ecco ecco chi è chi è? ma scusa ant man è così? no no è più bello è più bello e più affascinante sicuro immagino pensa che bello fanno il film su ant man che cazzo puoi dire su ant man fighi in assoluto ant man cioè è uno degli scienziati migliori certo lo scienziato supremo addirittura sicuramente sto aspettando non so cosa dove sono? è buono adesso chiedi qua ah il punto interrogativo vieni vieni eccoati qua dobbiamo maronna mica dopo io ritorno quello che vola ritorno da Jack McQuack short paperoni sono ovunque ma che ti sta devastando quello sono stato io eh quello sono stato io e vedervene volere i palazzi guarda questo va 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 anche quello sono stato io guarda che cazzo guarda che sta combinando eh abbiamo salvato la terra ma la città era in salsuolo grazie arrivederci poi ci mandate dove mandiamo la fattura? mettete sul mio conto grazie poi passo eh pago tutto vado al banco maturato guarda il missile guarda che roba vale io c'ho le tre granate che fanno schifo da morire guardano lì guarda che roba così imparano poi sono da danno collaterale tu spari ai palazzi per muori loro mamma mia guarda 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 preparati ha mancato il mondo ha mancato guarda adesso guarda adesso però aiutami ecco guarda 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 è morto aiutami a sconfiggere sono morto in maniera la morte dall'altro è questa ho sbloccato un obiettivo cos'è la T? perchè ho schiacciato la T e cambiato tutto che hai fatto? no perchè praticamente la T ti... guarda l'astronave la T che fa? aspetta l'astronave fra eh l'ho vista oddio oddio madonna è un'invasione con le contropalle questa ma anche contro le contra antenne vorrei aggiungere aspetta coprimi coprimi che bella questa battuta degli 80 contro le antenne guarda proprio dove sei dove sei? ah mica ma proprio lì in mezzo ti butta eh perchè lì dovevo andare ah adesso andata dov'è il prossimo? avanti avanti maronna guarda adesso guarda che bello, guarda che bello che è un cammino bello guarda gli astronavi spara agli astronavi ah ci sono gli astronavi dove sono? è pieno guarda guarda ma al volo lo devo beccare ma non sparare il missile spara col mitra non è un mitra è un fucile a... non riesco a caricare neanche una volta che c'è Dio aiuto! c'è di tutto basta avete scocciato questo gioco è un misto tra ecco la guerra dei mondi e a bug's life esatto e z è la formica e z è la formica coprimi coprimi mentre metto la bomba ah maledetto oh 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 via 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 oddio 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 via 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 sono morto. No, ma per la cimice devi premere E. Eh sì, ma ce l'ho fatto in tempo. Aiuto! Dov'è che bisogna andare? Ah, di qua, di qua! Eccoci, prego, prego! Aiuto! Maledette astronavi! Sono fatte cadere un'e... La polis! La pula, la polis, i caramba sono arrivati! Buoni, buoni! Non so cosa bisogna fare, perché bisogna stare qui, credo, a difendere la zona. Ah, mica, facciamo tutta la strada! Eh, signor presidente, difendendo la zona, sono crollati tutti i palazzi e non c'è più niente. Perfetto! Grazie! Le zecche sopra! Zeccaglia di merda! Boom! Ma no, quante ne sto facendo fuori! Aiuto! Ma mica si muovono! E' morto il nostro compagno, aspetta! No, andiamo, andiamo, chiunque esso sia! Kicker! Bravo, Kicker! No, dobbiamo assolutamente convincere qualcuno o minacciarlo di morte di comprare questo gioco e giocare con noi. Esatto! E' troppo bello! Perché credo che questo sia solo l'unica modo per minacciarlo di morte! Sono morto di nuovo! No, di nuovo! C'è la vita lì, prenditela! Eccomi, eccomi! Ma secondo me è perché ti fai esplodere il missile addosso! No, adesso non so quei miseri! Ma come fai a morire? Eh, mi hanno fatto fuori! Non lo so, non lo so! Ah, ah, aiuto, aiuto! Eh, l'ho colpito! Fatto a cadere un'astronave, come se non ci fosse un domande! Questo gioco ha preso un po' da tutti! Prendi la vita! Quando la vedi, prendila! Era un boost di armatura! Ah, e vabbè! L'ho preso il peggio del peggio da tutti i film e i telefilm degli anni cinquante! I dialoghi, qua è molto vero! I dialoghi proprio! Impara l'arte, mettila da parte, salutaci sopra! Secondo me, un dieci minuti, un quarto d'ora per scrivere la trama ci hanno speso, eh! Esatto! Il character designer poi è stato bravissimo, perché oltre alle armature poi ha detto I nemici, come cazzo facciamo? Ma perché dobbiamo sbatterci a fare gli alieni? Dio, buono! Io c'ho le cimici a casa, facciamo le cimici! No, perché qua per inventare è difficile! Prendiamo la prima schifezza che mi passa sotto i piedi! Eh, che fai! Lui abitava nel mondo di Quark! Esatto! Via, 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 via! Boh! Andata? Good job! Bellissima la pronuncia, good job! Abbiamo vinciuto, abbiamo vinciuto! A sto stronzo! Ah no, qua bisogna, arriva il boss qua, sicuro! Il Super Mario boss! Ma, ma, allora, dopo, guarda che la prossima ti caccio, eh! Veramente! Ma perché così era, per cogliere alla sprovvista i nostri amati followers! Eh, ne abbiamo persi 100 dopo la battuta! Esatto! Mi sa di sì! Processo Waypoint, ok, dobbiamo andare di qua! Prego, prego! C'è un signore! Salve! Dica! Scusi! Dica! Niente, vabbè! Non posso ucciderlo! Cioè, posso far crollare i palazzi ma non ucciderla gente! E' brutta questa cosa qua! No, niente! Però, guarda come balla, guarda come balla! Fa vedere dove balli! No, come balla lei! Ah, giustamente! Guarda, guarda come scappano! Dove scappate, brava gente! Ma le gravati scoppiano dopo tre quarti d'ora, ecco perché non funzionano! Ho sbagliato a prendere questo! Eccoci, eccoci, eccoci! Aspettate ulteriori ordini! Ok! Abbiamo vinto! Perfetto! Ebbè, adesso questa armatura non lo userò mai più perché fa cagare il cazzo! E io questo lanciagranate non lo userò mai più, è orrendo! Però, livello 2! Boom! Yes! Mi sento... Cioè, veramente mi sento bene dopo essere salito di livello inert, the first force... The Earth cazzo e manzo in forza! Alieni... Back and Bauer anche! Esatto!